Come butta ragazzi, primo giorno del 2023, pile cariche a pallettoni per la nuova stagione, sto andando a corricchiare per smantire qualche chilo che ho messo su qua durante le vacanze natalizie, come al solito è sempre la stessa storia e quasi casualmente lo consiglio a tutti, mi sono rimesso a sentire le sigle dei cartoni animali, vi ricordate i cartoni animali, quelli metà anni 80-90, è uno spettacolo, mi sono andato a risentire delle sigle che non ricordavo neanche più, D'Altanius, G. Grobo, voi pensate come sta questo, è tutta questa giusta, un sacco di personaggi che manco sapevo che non avevo seguiti, tipo Renzi la strega, io conoscevo Renzi in altro tipo di stregone, ma non sapevo che c'era un cartone animato, un sacco di cartoni animali sono stati rifatti, poi dopo che io ormai ero cresciuto non avevo neanche più tempo di seguirli, ma vi garantisco che ho fatto una scorpacciata quando ero ragazzino, che non avete idea, non me ne perdevo uno, poi a un certo punto è successa un po' la cosa che è successa anche nel calcio negli ultimi anni, sono diventati troppi gli impegni da seguire, c'è cartoni animali su tutte le reti private, a tutte le ore, se capiva più niente, me li sono un po' persi di vista, comunque ve lo consiglio a tutti, se andate a fare jogging eccetera, vi danno una bella carica proprio, allora parte il campionato, 50 giorni di sosta, io sinceramente non ce la facevo più, non ne posso più, perché comunque il campionato ha sempre scandito la mia vita, nei mesi invernali, quindi è la prima volta che questo non succede, abbiamo avuto la fortuna che il mondiale è stato veramente molto interessante, perché altrimenti sarebbe stato triste, però ragazzi, il mondiale senza l'Italia è come la pizza senza la mozzarella, c'è sta poco da fare, cioè è mancato proprio, sì abbiamo visto delle bellissime partite, so che molti hanno simpatizzato anche per il Marocco, c'è stata la redazione del Fatto Quotidiano che ha simpatizzato per il Marocco, perché dicevano ci sono tanti immigrati marocchini in Italia eccetera, ma sembra una cosa un po' forzata, magari potevano di sostenere, tifiamano il Marocco perché è una squadra che ha dei giocatori interessanti, insomma, comunque il mondiale senza l'Italia è andato così, siamo stati molto fortunati perché è stato veramente molto divertente, molto bello, ma è già tempo di archiviarlo e di guardare quindi alla ripresa dell'ostilità della Serie A, è già partita la Premier League, naturalmente anche con tutta una serie di risultati a sorpresa, anche il Baccellona in Liga non ha vinto in casa, con adesso mi ricordo la squadra, mi pare che fosse il Spagnolo, mi pare di ricordare, ma potrei sbagliare, una a una è finita. Allora, innanzitutto andiamo a fare un po' riassunto dei puntali precedenti attraverso la classifica, che ci dà sempre il quadro della situazione, questa classifica poi sinceramente me la ricordavo peggio di quello che in realtà poi è, perché Napoli 41 con 13 vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, Milan 33, Juventus 31, Inter Lazio 30, Atalanta Roma 27, quindi tutto sommato noi che abbiamo passato settimane a lamentarci del non gioco, della sterilità, ma poi alla fine siamo a tre punti, siamo a tre punti da sto quarto posto, questa è la realtà, con un Roma-Bologna che sulla carta non appare certamente un qualcosa di, diciamo un baluardo invalicabile, anzi, io ho letto la formazione di Bologna, uscirei dall'Olimpico avvelenato se la Roma non batterà il rosso-blu di Tiago Molta. La Roma ha otto vittorie e tre pareggi e quattro sconfitte, con 18 gol fatti e 14 subiti, con appena un più quattro in differenza reti, che dice assolutamente quanto segniamo poco. Poi c'è Udinete 24, Torino 21, Fiorentina-Bologna 19, Salernitana-Empoli 17, Monza 16, Sassuolo anche a 16, Lecce 15, Spezia-Lecce mi ricordavo che aveva qualche punto in più, invece c'ha solo 15 punti, Spezia 13, Cremonese 7, classica squadra che gioca bene ma raccoglie poco, Sampdoria 6, qui bisogna aprire una parentesi, Verona 5, la Sampdoria sta attraversando un momento estremamente delicato. Io non lo so sinceramente che ce la fanno, perché loro se non cedono una società in tempi strettissimi dovranno purtroppo inventarsi delle diavolerie per restare in Serie A, perché parliamo di chiaro, questi inciano più soldi manco per pagare i trasferte e gli stipendi ai giocatori, cioè ormai io spiego a Genova le cose si sanno, questa è la realtà, questi inciano più soldi. Ferrero sapete che ha avuto delle vicissitudini, in qualche modo c'è chi dice che l'unica soluzione a questo punto, visto che tutte queste fantomatiche trattative con Fantomatici, Arabi, Emirati, Sheikhi e compagnia bella, poi come spesso accade non sono andate in porto, perché è normale che ormai c'è troppa gente che ha capito che è il modo migliore di farsi pubblicità gratuita e dire me compro una grande squadra e per dei mesi interi si parla di te, tutti a cercare informazioni sull'idea, su Wikipedia e poi alla fine dice ma si è saltato tutto perché la banca non si è fidata, la banca che non sta mai, sta sempre come minimo nello Sri Lanka, non si è fidata delle garanziere, qualche top burocratico e tanto tu sei fatto pubblicità, capito, per dei mesi ma questi non hanno capito che la pubblicità negativa poi non produce, vi ricordate non so per esempio la vicenda manenti del Parma, che andò avanti per dei mesi, poi il Parma andò a rotoli, ma ce ne sono stati tanti di situazioni di genere, è successo anche a Latina per esempio, con altri personaggi analoghi, è un po' quello che sta succedendo a Genova, il rischio è che la Sampdoria venga praticamente cancellata da questo campionato, con conseguenze portata forse all'ultimo posto, retrocetta anteri e b, ma c'è il rischio di uno stravolgimento della classifica che andrebbe a minare la credibilità del nostro campionato perché ci sono quelle che hanno già giocato, che ci ha vinto, che ci ha perso, le partite successive poi non verrebbero giocate in questo caso, quindi sarebbe un casino, quindi bisogna trovare una soluzione ma non sarà semplice, so che la situazione è veramente molto complicata, vi chiude il Verona a 5 punti, che gioca in questo turno a Torino, quindi un'altra partita difficilissima, andiamo a vedere un po' quali sono le partite del 4 gennaio che cominciano, si giocano tutte i 10 il 4 gennaio, dalle 12.30 alle 20.45, fatemi vedere che giorno è il 4 gennaio, che non mi ricordo già più perché qua col capodanno non si capisce più niente, è mercoledì, a un mercoledì che chi ha, diciamo, tempo, magari il classico pensionato che non c'ha un cazzo da fare tutto il giorno, ha svoltato la giornata. Si comincia, è la sedicesima giornata delle 38 in programma al campionato 2022-2023, Salernitana Milano alle 12.30, come pure Sassuolo-Sandoria, abbiamo parlato adesso della Sandoia, compito non semplice sul campo del Sassuolo. Torino-Verona alle 14.30 in contemporanea con Spezia-Atalanta, alle 16.30 si ribeccamo Roma-Bologna, si ribeccamo la Roma, finalmente non ce ne può più, non ce la faccio più, sono 50 giorni che non gioca in campionato. Lecce-Lazio 16.30, giochiamo in contemporanea con quelli là, Fiorentina-Mongia 18.30, bella sta partita, il Monza in amichevole ha vinto a Lione 2-1 nei giorni scorsi e un risultato mi fa riflettere. Cremonese-Juventus, che ragazzi in qualche maniera sappiamo come finirà, Udinese-Empoli, Inter-Napoli, partitone, allora Cremonese-Juventus si gioca alle 18.30 come Fiorentina-Mongia, Udinese-Empoli e Inter-Napoli alle 20.45, all'Empoli è ritornato proprio dalla Sampdoria Ciccio Caputo, che a Genova non si è assolutamente trovato, diciamo, completamente fuori dal gioco, una cosa incredibile. Ho visto anche giocare dal vivo, non hanno saputo proprio costruire una squadra in grado di supportarlo. Torna Empoli, dove ha fatto sempre molto bene, ma questi sono giocatori che vanno bene in queste realtà provinciali, non è una colpa, ognuno di noi ha le sue caratteristiche. Io posso andare molto bene per fare un video su YouTube, magari anche vestito in un modo bizzarro come mi piace vestirmi, magari se vado a Rai uno alla domenica sportiva, non ho proprio le caratteristiche adatte, no, capite, con uno c'ha i suoi limiti. Allora, l'8 gennaio, Bologna-Atalanta, faccio anche la diciassettesima, così ci regoliamo un attimo, Fiorentina-Sassuolo, Juventus-Udinese, Lazio-Empoli, Mila-Roma, Monza-Inter, Salernitana-Torino, Sampdoria-Napoli, Spezia-Lecce, Verona-Cremonesio. Quindi dalla lettura combinata di queste due partite, scusate, di questi due turni, quello che emerge è che, qua mi è capitato il foglietto delle partite di scala 40 che abbiamo fatto in questi giorni, quello che emerge è che il Napoli a Genova ha un turno molto favorevole perché la Dandori è una squadra che non è assolutamente in grado di opporsi a questo Napoli qua. Quindi se contro l'Inter il Napoli non perde, ragazzi, io credo proprio che non ci sia più niente da fare. L'unica speranza, proprio molto remota, ma non ci credo, è che il Napoli perda male a Milano. Male. Poi, sì, vincerà pure a Genova, poi c'è Napoli-Juventus, però è magari un pareggio, quindi perde quei 3-4 punti per strada, ma se no è assolutamente finito il campionato, sono troppo in palla, giocano troppo bene, io non scommetterei un centesimo su un crollo del Napoli, però mi aspetterei, come già ho detto anche nell'altro video, che probabilmente a Milano potrebbero anche aiutarlo all'Inter perché è interesse generale del campionato che questo Napoli finalmente si fermi e perde anche una partita perché se no diventerà monotono questo campionato, come ho già detto, perché avremo una squadra che, insomma, la classifica l'abbiamo letta, il Napoli ha 41 punti, l'Inter ne ha 30, ragazzi, questi se vincono a Milano vanno a più 14 sull'Inter, ma ci rendiamo conto, ragazzi, che mi sembrava la squadra più attrezzata per andare a cercare di contrastarli perché la Juventus ha dei gravi problemi societari, Milan ha Rebus portiere perché Magnana non è ancora pronto, quindi sappiamo che Tataruzano e Mirante adesso hanno preso un altro portiere che si chiama Vasquez che però non giocherà titolare, non sono a livello di Magnana, quindi questo è un problema, alla lunga diventerà un problema, le altre squadre, l'Inter è molto lontano perché vincendo, allora l'Inter battendo il Napoli andrebbe a 33, sarebbe comunque a 8 punti, è impressionante la distanza che si è creata tra il Napoli e le altre squadre dopo solo 15 partite di campionato, è impressionante, quindi io penso che non ci sia niente da fare, la Roma da parte sua deve fare la corsa sulla Juve, come già ho detto, non sarà per niente facile, ne sapremo qualcosa di più vedendo Roma a Bologna perché capiremo finalmente che tipo di musica vuole suonare questa volta questa squadra, a questo punto questa squadra, se vogliono continuare a fare un ritmo lento o se se vogliono svegliare un po' e provare a fare questa remuntata e io sinceramente auspico, mi auguro che la Roma voglia, vista la situazione di classifica, voi capite che a noi a un certo punto, parliamo di chiaro, che il Napoli vince a Milano, tutto sommato ci va anche bene perché noi battiamo il Bologna e raggiungiamo l'Inter, andiamo a 30 punti con l'Inter, vi fa schifo questa situazione dopo 16 turni di campionato? la Lazio può magari anche, io non credo che vincerà a Lecce, non lo so perché Lecce non è un cliente facile, però diciamo anche che vinca a Lecce e va a 33, ma chi se ne frega, ma la Lazio non può arrivare a fare le prime 4, poi cala quindi io me ne vado a 30 punti con l'Inter, l'Atalanta con chi gioca magari vincerà la Spezia, ce ne andiamo a 30 punti, Atalanta, Roma e Inter, e poi se la giocavo, io la vedo così, tutto sommato paradossalmente, tanto per noi Napoli è raggiungibile, quindi che vinca o perda non cambia assolutamente niente, dal punto di vista Mario Mario, poi se vi è stato il cazzo la squadra, quello è un altro discorso, però noi tutto sommato abbiamo anche tra virgolette degli affetti in questa squadra che sono Spalletti, anche Mario Rue ha giocato nella Roma, è una squadra anche lei del centro-sud, diciamo che i rapporti tra tifosi romanisti e napoletani sono stati sempre dei migliori, però se non altro si rompe la monotonia di queste vittorie delle squadre strisciate del nord che sinceramente hanno anche un po' stufato perché i nove i nove scudetti di seguito della Juventus negli ultimi anni sono stati veramente noiosi, solo quello di Sarri è stato un po' combattuto ma è diventato veramente monotematico il campionato. La Roma, come ho detto, potrebbe decidere di lasciare Ebram in panchina e di provare, di sperimentare Zaniolo prima punta, questo potrebbe anche avvenire in corso d'opera, se magari Mourinho deciderà di dare ancora fiducia a Ebram salvo poi sostituirlo e avanzare questo Zaniolo centravanti che io penso che prima o poi vedremo, comunque nella sua carriera lo proveranno centravanti, con quali esiti non lo so, però la speranza è che lui correndo di meno e giocando più vicino alla porta potrebbe essere, come ho già detto, più lucido nel momento della conclusione perché lui è lì che pecca, cioè lui sbaglia le soluzioni finali, purtroppo è così sia in di passaggio che in fase di tiro, quindi credo che Mourinho abbia notato questa cosa e stia cercando di lavorare in tal senso. Poi c'è il punto interrogativo Tahirovic, sembra che Mourinho intenda schierare al fianco di Cristante contro Bologna e comunque lo vedremo in campo, nel secondo tempo comunque secondo me, ma a me suona soprattutto con una grande bocciatura di Camarà questo interesse per Tahirovic. Camarà certamente non è cantè, no? Cioè è un giocatore che poi tra l'altro ha ancora tanto da migliorare, eccetera, è un giocatore che punta sul dinamismo, però il fatto che dopo anche delle partite tutto sommato soddisfacenti Mourinho sia andato così con questa decisione su Tahirovic, così mi ha lasciato un po' sorpreso e vedremo se ci crederà, vedremo, ma qualcosa cambierà sicuramente Mourinho perché non è che si può andare avanti, cioè non si può ripresentare con la squadra dello scorso anno, lui è normale che deve mandare anche un segnale ai tifosi che in massa come sempre accorreranno allo stadio per far capire che si inverte la marcia, che si cerca di modificare qualche cosa perché altrimenti non è possibile una cosa del genere, cioè se non andiamo là ci ritroviamo un'altra volta, Cristante Matic, Mancini, Mourinho, Bagnet, Cardo, capito? E Spinazzola o Zaleschi a sinistra e poi, insomma, sempre Ebbancentravanti, le solite cose, è chiaro che la gente si stuferebbe. Bisogna adesso mandare un segnale di cambiamento per provare, ripeto, la remuntata, noi dobbiamo provare la remuntata, dobbiamo ritornare nelle prime quattro, assolutamente perché questa stagione deve andare così, noi dobbiamo rientrare in Champions, altrimenti entriamo in un tunnel di mediocrità da cui dopo si fa fatica a uscire perché lo stesso Mourinho si stufa di questa situazione perché non è semplice giocare con degli obiettivi importanti con i giocatori che ha a disposizione in questo momento la Roma. Già il fatto che lui oggi sia costretto ad andare a cercarsi un Tahirovic o un Volpato in primavera la dice tutta, la dice lunga su quelle che sono le difficoltà. Comunque il primo turno del 4 gennaio mi sembra abbastanza interessante, partite interessanti, come ho detto ve le rileggo velocemente, Salenitana Milan, Sassuolo, Sampdoria, Torino, Verona, Spezia, Atalanta, Roma, Bologna, Lecce, Lazio, Fiorentina, Monza, Cremonese, Juventus, Udinese, Empoli, Inter, Napoli, la possibile sorpresa della giornata, il Lecce che è una squadra molto rognosa, ricorderete fin dalla prima partita si è dimostrata una squadra rognosa che perse con l'Inter al minuto 95, solo al minuto 95 col gol di Achimi, io prevedo la sorpresa del Lecce che batte la Lazio, ecco, la vedo così, vi ripeto non mi sorprenderebbe che l'Inter venisse aiutata per battere il Napoli con qualche decisione a favore, ma non basterà comunque perché ormai il vantaggio del Napoli è troppo largo. Altra possibile sorpresa è il Monza a Firenze, ecco il Monza potrebbe fare una sorpresina anche lui a Firenze perché il Monza è una squadra che secondo me la stanno costruendo bene. Perfetto ragazzi, grazie per l'attenzione, vi auguro ancora buon anno e tuffiamoci finalmente in questo nuovo anno, in questa stagione fase 2, la fase 2 la chiamerò, di questo campionato. Grazie, un abbraccio a tutti.